Preparatevi, fan! Sta per arrivare uno dei momenti più attesi del calcio italiano, l'Euroderby tra Milan e Inter, due squadre che tornano nelle prime quattro d'Europa. E non capita tutti i giorni di vedere Pioli e Inzaghi affrontarsi in una semifinale di Champions League. È l'occasione per entrambi gli allenatori di vincere questo ambito titolo per la prima volta. E c'è un dettaglio che ti piacerebbe sapere. Ciao tifosi nerazzurri, benvenuti nel nostro canale di notizie sull'Inter. Oggi abbiamo alcune interessanti notizie da condividere con voi sulla possibilità che l'Inter affronti il Milan in semifinale di Champions League. Come sempre, siamo qui per portarvi le ultime notizie e informazioni sulla nostra amata squadra. Quindi iscriviti per rimanere aggiornato sulle notizie. Senza ulteriori indugi, iniziamo. Questa battaglia non sarà facile, del resto l'equilibrio tra le due squadre è impressionante. Sono nove le vittorie dell'Inter e 5 del Milan, l'ultima a febbraio di quest'anno, quando Lautaro Martinez affondò il Milan in una sconfitta che segnò un momento difficile della stagione. Tuttavia, lo scorso settembre, i rossoneri hanno battuto i campioni d'Italia con uno spettacolare 3-2. Questi scontri storici sono sempre elettrizzanti e ora ne abbiamo due in una settimana. Sarà un vero campionato in un breve periodo di tempo e i fan di entrambe le squadre sono ansiosi di vedere chi uscirà vincitore. E non possiamo dimenticare che queste partite hanno un sapore ancora più speciale perché sono un Euroderby, che è molto più di un semplice derby. Lascia il tuo like per rimanere aggiornato sulle novità dell'Inter. E l'importanza di queste partite è ancora maggiore quando si parla della contesa per lo scudetto. In molti credono che il derby giocato nel febbraio 2022 abbia deciso le sorti della scorsa stagione. E ora, i due scontri di questa settimana possono definire chi sfiderà il vincitore tra Real Madrid e Manchester City in Champions League. Con tutto ciò in gioco, non possiamo fare a meno di sentire l'eccitazione che portano questi giochi. E per i tifosi di Milan e Inter, sono nove le classiche in soli due anni. È un vero regalo per gli amanti del calcio. Quindi preparati, perché questi giochi promettono di essere elettrizzanti e indimenticabili, credi che l'Inter abbia le carte in regola per battere il Milan e qualificarsi per la finale di Champions League? Commenta qui sotto, lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per ricevere le prossime novità. Al prossimo!